Nella provincia di Bologna un tragico incidente stradale ha colpito una coppia anziana ieri pomeriggio 25 gennaio intorno alle 14 a Quinzano nel comune di Loiano. La vettura della coppia per causa è attualmente sotto indagini da parte dei carabinieri uscita di strada a lungo via delle vigne precipitando in un dirupo. Entrambi i coniugi di 82 anni residenti a Bologna avrebbero perso la vita sul colpo. I vigili del fuoco sono intervenuti per il recupero dei corpi sul luogo dell'incidente. La tragedia svela ancora molto incognite sulla dinamica dell'accaduto mentre le autorità cercano di comprendere le cause che hanno portato all'uscita di strada della coppia anziana. Grazie per la visione!